Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi risponde alle polemiche sollevate dal PD e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci sulla riforma del Parco San Bartolo approvata dal Consiglio regionale. Riforma che comprende anche il Parco del Conero e della Gola della Rossa. Sono sinceramente meravigliato di queste polemiche fatte e portate avanti in particolar modo dal gruppo regionale del Partito Democratico e ho sentito in queste ore più volte anche il sindaco di Pesaro Ricci. Perché sono meravigliato? Perché noi per capirci abbiamo tre parchi regionali che è uno quello del San Bartolo, comune di Pesaro di Gabecce, uno quello del Conero, comune di Nubana, di Sirolo, di Ancona e quello della Gola della Rossa che comprende una serie di comuni. In ognuno di questi parchi la regione ha un solo rappresentante, benché noi, come dicevo, finanziamo il 100% delle spese che portano avanti e glielo ho anche aumentate l'ultimo anno perché giustamente occorre garantire una buona funzionalità di queste realtà e non riusciamo ad incidere quasi per nulla sulle scelte perché appunto siamo come regione in netta minoranza. Quindi noi creiamo tre antiparchi con consigli di amministrazione di sette persone l'uno, uguale in tutti e tre i casi. Ci tengo anche a dire che non percepiscono nulla i consiglieri, quindi non è che aumentando di numero come facciamo sul San Bartolo noi abbiamo un aggravio di spese perché non percepiscono nulla i consiglieri degli antiparchi. e la rappresentanza della regione Marche la portiamo a tre consiglieri su sette, quindi lasciamo tranquillamente piena legittimità e rappresentanza ai comuni dei territori dove sono gli antiparchi, così come oggi, aggiungiamo semplicemente due consiglieri alla regione Marche perché è giusto che la regione possa direttamente incidere ed interpretare le esigenze di questi territori. Grazie a tutti.